Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Carissimi bambini, bentornati a questo incontro con la dottrina cristiana. Iniziamo con la preghiera del Ti adoro. Ti adoro, mio Dio, e Ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la Tua santa volontà e per la maggior Tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La Tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Diciamo anche un'Ave Maria per il nostro Santo Padre, Benedetto. Preghiamo anche per le vostre famiglie, per i vostri cari e anche per tutte le persone che soffrono. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ecco, vorrei partire da un ripasso. Ripassiamo le risposte che abbiamo dato in questi incontri alla domanda come è Dio. Abbiamo detto che Dio è eterno, è eterno, è sempre stato e sempre sarà. È onnipotente, può fare tutto ciò che vuole. È purissimo spirito, infatti non ha corpo. È immenso. È in cielo, in terra e in ogni luogo. È onnisciente, che vuol dire che sa tutto, anche i nostri pensieri. E poi la volta scorsa abbiamo aggiunto una sesta risposta. È Trinità. Dio è uno solo in tre persone uguali e distinte. Queste sono le risposte che abbiamo dato alla domanda come è Dio. Oggi aggiungiamo qualcos'altro. Questo Dio, che è purissimo spirito, che è immenso, che è onnisciente, ha creato l'uomo. E l'uomo è la creatura più cara che ha Dio. Ci chiediamo oggi perché Dio ha voluto creare l'uomo. Allora scriverete nel vostro quaderno questo titolo. Per qual fine Dio ci ha creati? Ecco, noi vogliamo sapere perché Dio ci ha creati, ha creato l'uomo. E l'uomo è la creatura più cara che ha il Signore. Per Lui ha fatto l'universo. Le montagne, il mare, il cielo, tutto ha fatto per l'uomo. Per quale motivo, per quale fine Dio ci ha creati? Questo è il titolo. Ora vedete in questa illustrazione un episodio che si trova nella Bibbia. La persona che sta sdraiata in primo piano è Giacobbe. Giacobbe è uno dei patriarchi, cioè degli antenati del popolo di Israele, degli ebrei. Questo Giacobbe, mentre dormiva, fece un sogno. Il sogno consisteva in questo. Vide una scala che partiva dalla terra e saliva fino al cielo. Una scala lunghissima. E su questa scala salivano e scendevano gli angeli. Al vertice della scala c'era Dio. Allora, questo fatto, questo sogno che ha fatto Giacobbe, ci rivela che la nostra vita, bambini, è come una scala che ci porta a Dio. Che ci porta al paradiso. Noi siamo stati creati per entrare nel paradiso insieme con Dio. Pensate che bella cosa è questa. Ognuno di noi è stato pensato da Dio perché arrivi nel paradiso. La troveremo la nostra più grande e completa felicità. Saremo felici completamente. Allora, noi siamo stati creati per Dio. Provate allora a scrivere, a scrivere sul quaderno, le domande e le risposte che dobbiamo imparare questa settimana su questo argomento. Eccola qua. La prima domanda. Per qual fine Dio ci ha creati? Dio ci ha creati per conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita e per goderlo poi nell'altra in paradiso. Quindi, in questa vita noi dobbiamo cercare di conoscerlo meglio che possiamo. Conoscere Dio. Dobbiamo cercare di amarlo e di servire i Suoi comandi, di servire la Sua volontà. Perché se faremo così in questa vita, poi lo godremo per tutta l'eternità in paradiso, per sempre. Ecco, fermerete poi l'immagine, copierete la domanda e la risposta e poi cercherete di impararla, di impararle durante la settimana. Dio ci ha creati per conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita e per goderlo poi nell'altra in paradiso. Noi siamo destinati al cielo. E' una cosa bellissima questa, che ci dà tanta speranza. Poi aggiungiamo anche quest'altra domanda. Che cos'è il paradiso? Infatti, che cos'è il paradiso? Il paradiso, risposta, è il godimento eterno di Dio. Cioè, noi godremo per sempre la presenza di Dio. Sarà una felicità immensa, infinita. virgola nostra felicità e di ogni altro bene, virgola senza alcun male. Nel paradiso non esiste il male. Solo cose buone, solo felicità, la presenza di Dio godremo. Pensate. Quindi, questo paradiso, cari bambini, bisogna guadagnarlo sulla terra. Bisogna meritarlo. Dobbiamo meritare il paradiso. In che modo? L'abbiamo detto prima. Conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita. Se non si fa così, non si può arrivare a goderlo nell'altra. Nell'altra vita, cioè nella vita eterna. Vediamo anche un altro disegno che ho trovato, ed è questo. Guardate che bello questo disegno. Sulla sinistra c'è Dio, tutto circondato di luce nel paradiso. e sulla destra c'è Maria, la Madonna, la mamma di Gesù e la nostra mamma. In mezzo c'è un bambino, siete voi, siamo noi, siamo tutti quanti noi. Che cosa succede? Che questo bambino cammina su un'asse, su una via che lo porta fino al paradiso. Questa via, vedete, è a forma di croce. È una via luminosa, è una croce dorata, ha lo stesso colore della luce del paradiso. Sono le croci, sono i sacrifici, sono le sofferenze che noi incontriamo sulla terra. Se noi camminiamo con queste sofferenze, vivendole con amore, con fede, con speranza, arriveremo fino al paradiso. Non si può arrivare al paradiso camminando su una strada diversa dalla croce. Solo la croce, solo il sacrificio portato con amore ci fa arrivare a Dio. E dietro alle spalle di questo bambino c'è la Madonna. C'è la Madonna che ci indica la via, che ci protegge, che ci aiuta, che ci difende. Con l'aiuto di Maria noi, con le nostre sofferenze, le sofferenze di ogni giorno, arriveremo certamente a Dio Padre. Guardate Dio che ha le braccia allargate perché ci aspetta, ci aspetta per abbracciarci e per accoglierci. Il nostro posto è il paradiso. La nostra patria è il paradiso. La terra è solo un passaggio. Pensate che belle cose che abbiamo imparato oggi. Andiamo a vedere questa figurina piccola di una bambina che sta studiando il catechismo, che sta studiando la dottrina cristiana. Cosa dice questa frase che è scritta? Vediamo se c'è abbastanza luce. Studia dice studia volentieri il catechismo per imparare a conoscere, amare, servire Dio. Ecco, lo studio del catechismo ti aiuta proprio a conoscere meglio Dio. Così lo puoi amare e lo puoi servire facendo la sua volontà. Poi dice anche un'altra cosa. Quindi, bambini, prendete sul serio e con impegno questo momento e questi video che io vi offro. prendetele con tante impegno perché sono un mezzo privilegiato per conoscere Dio. Recita, dice quest'altra frase, l'atto di speranza è una bella preghiera con la quale chiediamo le grazie di cui abbiamo bisogno per andare in paradiso. Vediamo questo atto di speranza che voi immaginano che non conoscete ancora. e cerchiamo di di impararlo. L'atto di speranza ecco l'atto di speranza è una preghiera. Anche qui troviamo una bambina che cammina su una croce. Guardate, da una parte la croce poggia sulla terra, dall'altra appoggia sulle nubi del paradiso. Là c'è una luce abbagliante che è la luce che c'è nel paradiso. La bambina deve camminare su questa croce. Certo, non è facile perché sotto c'è il vuoto ma deve avere fiducia in Dio, deve sperare in Dio. se attraverserà questo spazio sulle croci della vita, sulle sofferenze della vita, sui sacrifici della vita, arriverà arriverà in paradiso. Ed ora fermerete l'immagine e copierete questo atto di speranza. Mio Dio, recitiamola insieme. Mio Dio, spero dalla Tua bontà per le Tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io non resti confuso in eterno. Allora vedete che dice spero dalla Tua bontà la vita eterna che sarebbe il paradiso ma non solo anche le grazie necessarie per meritarla. Ecco, non è facile meritare il paradiso però il Signore fa le grazie cioè quei doni che ci aiutano che ci aiutano ad arrivarci a meritarlo. dice le buone opere che io debbo e voglio fare che io non resti confuso in eterno cioè che io non anziché andare in paradiso non perda il paradiso. Questa è una bella frase è una bella preghiera e vedete che se avete questi sentimenti nel vostro cuore Dio sicuramente vi aiuterà a raggiungerlo. Quindi imparate bambini cari questa preghiera questa settimana insieme alle altre due domande che avete già visto. Infine vi invito a fare un disegno un disegno ispirato dalle cose che abbiamo detto in questo incontro. Terminiamo qui con l'atto di speranza esatto recitiamo proprio l'atto di speranza mio Dio spero dalla tua bontà per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare Signore che io non resti confuso in eterno nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen sia lodato Gesù Cristo di Gesù Cristo e di Gesù Cristo